Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Endergame e oggi siamo su questo video nuovo Five Nights at Freddy's Mi sono fermato proprio perché avevo un piccolo problema con le cose in cui registravo, come ad esempio Mobisen e due recorder e molte altre cose E avevo questo piccolo problema La serie, ho detto in un mio video che la serie di FNAF era finita, ma ovviamente non era vero perché stavo preparando quella nuova, la seconda stagione Ragazzi, vi raccomando, vi ringrazio veramente tanto per i 152 iscritti, veramente grazie Soprattutto, spero che a voi questa seconda stagione vi piaccia Iniziamo Bastardelli, sono qui come possiamo vedere Spero che a voi vi piaccia, perché se no, io sto facendo tutto il possibile che vi piaccia, porca va Allora, noi adesso sappiamo già che non succederà da niente alla prest... alla prima notte non succederà niente di niente Quindi mi limiterò soltanto a girare E io mi guardo così No, mi cerco di guardare Io guardo qui qua Foxy, mia mia, dove sei? Ho la battita 72%, dobbiamo cercare di non sprecarla, eh Non sprechiamola, non sprechiamo Allora, lui sta dicendo che gli animatronics sono molto eccentrici di notte e che non sono... non sono in modalità spenta, ma sono una sorta di modalità notturna che gli permette di pagare per la pizzeria e questo gioco lo sapevo, delle volte sono scleravo Mi sa che... se abbiamo sclerato su FNAF 2, scleriamo anche su questo qua Allora, speriamo che non... se premetevi nel poster sul naso di Freddy, c'è un portafortuna C'è un portafortuna Sulle 3 di notte, vediamo se l'hanno tolto, speriamo di notte Sì, l'hanno tolto Parca... Se si vedevi a vedere dopo un po' probabilmente non ti ricorda come una persona Quindi probabilmente ti vedevi a vedere in un metal indosfilment senza un tipo No, non è bene No, non è bene A partire al 41% non posso morire la prima notte in video, soprattutto perché io nella prima notte non sono morto mai Sono le 4, ok? Sono le 4, possiamo resistere Basta che non avviciniamo quel bastardo coniglio Ciao cica Bastardo coniglio qua Sono le 4, dai, cazzo ci vuole a fare delle c... Non mi lamento più, scusa No, doveva Allora, lui è ancora qua sotto, vediamoci E' qui accanto E' qui accanto Ho la batteria al 29% Sono le 4 di notte Adesso è al 28, dai, svidiamoci Porca Eva Che cazzo ci vuole a fare delle 5? No, no Sono le 5 Sono le 5 5 qua sotto Sono le 24 24% Sono le 5 Adesso Non devo spiegare energia Foxy alla prima notte non spunta Dov'è cazzo? Dov'è finire? 21% No, 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 fai le 5 Fai le 5, fai le 5 Se ce la faccio Corro In mutante Fai le 6 No, no 15% 15% 15% No, 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 dai No, 15% No 13 12 Sì 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 Sei del mattino Fuca Sei 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 Perché non sta facendo Bambini a me Concludo con questo episodio Se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace Anche nella mia pagina di instagram che ve lo sciacco sotto in descrizione E noi ci rivediamo nel prossimo video Bella Sì